Quando facciamo degli interventi tecnici molta gente ci dice che utilizza nastri originali del costruttore. Volevo fare un po' di chiarezza perché spesso la gente è convinta che sta utilizzando un nastro originale ma almeno sia un nastro compatibile, sicuramente sempre di qualità però non è un nastro originale. Vediamo come si riconosce. Il nastro originale di qualsiasi costruttore che adesso vi mostro hanno un film esterno dove è sempre riportato il brand oltre alle informazioni della qualità del nastro e le dimensioni. In questo caso questo è un nastro intermec. I nastri Toshiba sono marcati in questo modo e anche l'anima interna, vedete c'è la scritta del brand oltre al bollino esterno. Idem vale per i nastri zebra, in questo caso questo è il simbolo della qualità del nastro e vi faccio vedere la differenza tra un nastro compatibile. Questo è un nastro compatibile non originale perché vedete non c'è il brand sul film anche se è utilizzabile sulle stampanti e questo è un altro nastro compatibile per stampanti. Come vedete non c'è nessun brand internamente e sul film esterno. Quindi è importante anche quando chiedete delle votazioni o delle offerte di verificare bene se vi stanno offrendo un nastro per stampante tech, zebra, intermec o annual o un nastro originale perché comunque la differenza c'è che può essere anche nella struttura del nastro, nella resistenza agli attriti, può proteggere il film, sono fatti in modo di proteggere in maniera diversa la testina dalle cariche elettrostatiche per cui ci sono molte valutazioni da fare oltre ovviamente al prezzo. Ora l'importante ricordo controllate sempre all'arrivo che ci sia il brand del nastro altrimenti è un nastro compatibile. Per qualsiasi informazione o quotazioni potete contattarci.